Il capitano Marco Spaziani è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pomezia. In un primo incontro indetto con i rappresentanti della stampa locale abbiamo conosciuto le sue precedenti attività ed esperienze. 31enne originario di Frusinone arriva da Roma dove ha prestato servizio negli ultimi quattro anni al comando provinciale. Presso il nucleo investigativo dei carabinieri in via Inselce è ricoperto per questo periodo l'incarico di vice comandante della sezione omicidi e criminalità organizzata. Negli anni precedenti aveva invece il comando del NORM presso la Compagnia di Torre Annunziata con altre esperienze anche a Dischia e Secondigliano. Nel suo curriculum la Scuola Militare Tullier di Milano, l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali di Roma durante la quale si è laureato in giudisprudenza. Inoltre ha conseguito una laurea in Scienze della Sicurezza e frequentato per tre mesi i corsi FBI nella sede di Quantico. Il capitano Spaziani ha assunto l'incarico il 30 ottobre scorso subentrando al suo predecessore Maggiore Rodrigo Micucci, destinato ad altri incarichi. Nuovo arrivo nella Compagnia di Pomezia anche al comando del NORM con il sottotenente Carlo Emanuele Scardini.